Luca Lucini Ammiraglio o furgone? Motorino Amedeo Tabini Nike o Puma? Nike tutta la vita Piercing Cicloturismo o ciclismo agonistico? Viaggi spaziali Maniche arrotolate o senza maniche? Senza maniche Downhill o fuori pista con lo snowboard? Ciclocross Ti alleni ascoltando le tue sensazioni o leggendo dei dati? Ascolto gli ACDC Inverno o estate? Estate Primavera